Il degrado al tempo del coronavirus, ancora segnalazioni da parte dei cittadini che scattano foto di guanti e mascherine usati e abbandonati lungo le strade, all'esterno dei supermercati, sui marciapiedi. Queste sono le immagini che ci hanno girato i nostri telespettatori, immagini che continuano purtroppo a raccontare l'inciviltà di coloro che sporcano le aree pubbliche, creando così odiose situazioni di degrado.